E allora lo aspettavamo negli studi, prima degli studi lo dobbiamo intervistare qui a casa sua Domenico Giampà, adesso nuovo tecnico ufficiale dell'Eurogiri Falco, anima di questa squadra, giocatore in campo, addirittura tutto fare perché abbiamo visto che hai fatto davvero di tutto con i tuoi giocatori, li hai comandati quasi, scusami il termine comandati, ma addirittura proprio muossi come delle pedine in campo. Domenico, intanto è stata una bella vittoria, l'avete giocata molto bene, c'è stato soltanto quel 2-1 che per un pochettino vi poteva mettere in imbarazzo? Sì, ma è stata una partita correttissima, quindi per essere un derby va sottolineato perché in campo ci siamo rispettati. Il 2-1 sì, ci ha messo un po' così, però dobbiamo dire che l'avversario ha fatto un Eurogol, quindi quando gli avversari fanno gol del genere non puoi dare la colpa a nessuno, quindi un applaudirlo perché credo che è stato il gol più bello di tutti i cinque gol oggi, però noi, sono contentissimo dei ragazzi perché mi seguono, io credo che siamo una squadra che ci piace giocare con la palla, cerchiamo sempre la responsabilità numerica e ci divertiamo così, quindi poi il risultato conta fino a un certo punto, in queste categorie deve contare molto il fair play, che devo essere onesto c'è poco in tutti i campi, quindi dobbiamo migliorare sotto questo aspetto che magari manca un po' di cultura calcistica, però secondo me con gli allenatori adesso che studiano, con tutti questi padantini che stanno studiando adesso, penso che possiamo migliorare questa cosa. Effettivamente, dicevamo proprio con Peperosa venendo qui a fare le interviste che una volta c'era davvero tanta vehemenza nei derby, oggi è stato un correttissimo, un pubblico delle grandi occasioni come sempre. Come l'hai studiata questa partita con quei due davanti che davvero riescono a fare qualcosa di incredibile? Io ho visto fare quel gol a Quirino che da tanto non lo vedevo fare, anche in categorie superiori devo dire la verità. Sì, ma come ho detto prima ci sono stati dei bei gol, quindi iniziando da loro, da Espedito, anche Quirino. Noi davanti abbiamo gente di qualità e cerchiamo di mettere nelle condizioni migliori per fare bene, quindi come ho detto prima ho dei giocatori bravi, cerchiamo di mettere in difficoltà anche il Pianopoli, ma però devo essere onesto che il Pianopoli è una squadra forte, quindi per come sta andando il campionato sotto certi aspetti meritiamo sia noi che loro di salire, però loro sono una squadra forte, cerchiamo di mettere le persone fino alla fine, però sappiamo che il campionato lo può perdere solo il Pianopoli perché sei punti da recuperare in poche partite sono quasi impossibili, però fin quando la matematica... Tra ieri potreste prendere voi andando lì? No, ma fin quando la matematica non ci condanna noi ci proviamo, poi se no tenteremo in un altro modo per cercare... A traverci i play-off. Play-off oppure ci potrebbe essere anche la possibilità di arrivare a più dieci sulla terza, quindi... Di questo si parlava anche nella tribuna. Quindi noi andiamo avanti, lavoriamo perché oggi abbiamo vinto il derby, ma noi non abbiamo vinto il derby, poi domenica ci sarà un'altra battaglia, è un'altra partita da vincere, è sempre l'avversario. Certo, io ti strappo adesso una promessa davanti ai nostri telespettatori, domenica prossima tu sarai a domenica gol. Va bene, quindi domenica prossima vengo nello studio. Grazie. Io nella telecronica dicevo se non c'era questo portiere oggi, un certo signor Bilotta, probabilmente la partita sarebbe finita con un ponteggio tennistico. Diciamo di sì, se analizziamo la partita, hanno sicuramente meritato la vittoria, ma i gol che ci sono stati sono stati anche su fortuiti, rimpalli, come avete visto. Altri meritavano di entrare e grazie a un po' di esperienza sono riuscito a bloccare qualche cosa a Querino e agli altri ragazzi, che effettivamente riconosciamo che sono bravi. Noi abbiamo tenuto, perché per noi adesso ogni partita è una finale, quindi cerchiamo di recuperare tutti i giocatori, perché non siamo mai stati tutti quanti in rosa, per cui abbiamo avuto difficoltà un pochettino sulla parte centrale d'attacco, però non demordiamo, quindi noi siamo convinti di poterci salvare e di poter raggiungere i nostri obiettivi. Ecco, probabilmente se non ci fossero state quelle piccole, a me dispiace doverlo dire in decisione, da parte dei due centrali un pochettino lentini, Querino non si sarebbe infilato in quel modo. Non me ne vogliono i tuoi compagni? No, no, assolutamente, anche noi abbiamo notato e abbiamo visto quali sono i nostri errori, abbiamo sicuramente alcuni limiti e sicuramente potremo fare di meglio e speriamo che facciamo di meglio, ci crediamo. Ecco, adesso comincia, diciamo, io ho guardato un po' il calendario, voi avete in casa le dirette concorrenti, voi dovete andare a Valle Fiorita, quindi potenzialmente è nelle vostre corde la possibilità di salvarvi? Assolutamente sì, noi ci crediamo e andiamo convinti, visto comunque sia come si presenta il programma di campionato, di poter raggiungere questo obiettivo. E tu speri di non dover fare gli straordinari come oggi, grazie. Grazie a lei, bocca al lupo. Grazie a lei, bocca al lupo.